In certi ambienti, fra tutte le discussioni sui sette anni della tribolazione e sul rapimento pre, mid o post tribolazione, una cosa semplice ma fondamentale è stata ignorata. Non esiste un solo versetto in tutto il Nuovo Testamento che accenni a un periodo di sette anni di tribolazione. Stiamo forse dicendo che non ci sarà alcuna tribolazione alla fine dei tempi? In un modo o nell'altro i credenti hanno sperimentato varie forme di tribolazioni in ogni secolo. Non abbiamo alcuna garanzia che negli ultimi giorni ci saranno delle eccezioni, ma non crediamo che ci sarà quella tribolazione comunemente presentata ed è la quale tanto si parla negli ambienti dispensazionalisti. La Bibbia insegna che negli ultimi giorni, ai tempi della seconda venuta di Gesù, le persone mangeranno e berranno, si sposeranno, pianteranno e costruiranno, compreranno e venderanno. Luca 17 da 26 a 30. Questo lascia intendere che in linea di massima le cose continueranno normalmente come sempre. Si parlerà di pace e sicurezza. Prima Tessalonicesi 5 a 3. Ma se dovesse scoppiare l'inferno sulla terra, come alcuni prevedono, certamente dopo sette anni di simili sciagure non si potrà parlare di pace e sicurezza. A proposito di questo, è stato ben detto alcuni anni fa, se tutti i segni temuti da alcuni dovessero precedere la venuta di Cristo, la società non potrebbe assolutamente essere come viene descritta in questi versetti, dai quali traspare una normale routine di vita quotidiana. Se dovessero intravedersi questi eventi inauditi, soprannaturali e mostruosi, non si spargerebbe presto la voce per tutto il mondo e non produrrebbero di conseguenza un tale stato di agitazione e di allarmismo al punto che tutto si fermerebbe e non si penserebbe più a comprare o a vendere, o a piantare, a costruire, a prendere moglie o andare a marito. Sicuramente le ultime cose alle quali pensare in mezzo a tutte quelle sciagure sarebbero appunto pace e sicurezza. Avendo considerato tutte queste cose, noi concludiamo che non ci sarà quel tipo di tribolazione che alcuni hanno immaginato per la fine dell'età presente. Nessuno conosce tutti i dettagli, non c'è spazio per arroganza o dogmatismo. Non sappiamo né il giorno né l'ora del ritorno di Cristo. È importante essere pronti e vegliare in ogni tempo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Tito capitolo 2 verso 13